I cazzi di una persona in cui tu non c'entri niente sputtanandola così pubblicamente secondo me non ha senso Anche perché finché lo faceva prima e non l'aveva fatto col suo ex non aveva mai detto niente nel senso Poi basta, poi la Samara ha sbagliato, poi si deve dire quel che volete Cioè io non mi metto in mezzo e non voglio dire Samara ha sbagliato, Samara non ha sbagliato Dico solo che secondo me non è giusto e penso sia anche una cosa oggettiva Non sia giusto sputtanare così tanto una persona perché raga ha un odio ora Samara indescrivibile E fidatevi che è pesante, potete essere anche la persona più forte del mondo caratterialmente Che è anche noioso avere sotto ogni video Samara, Samara, l'ottavo, l'ottavo Cioè oh, chi siete per dirlo? Nel senso potrà fare quel cazzo che vuole, se li può fare anche tutti Ma voi che cazzo me ne frega? Mi ha preso a voi per il culo? No Punto Nel caso vado a risolvere io, non che lo vado a dire su una diretta annunciata Che così tutta la gente si prepara e la va a vedere 19-19 desiderio Fotto Poi questa è la mia opinione, eh? Punto Sima si è fatta l'ex delle sue amiche Le sue amiche le vanno a dire qualcosa, punto E poi io non trovo che sia una cosa sensata farlo in diretta Cioè se vuoi dire qualcosa a renderlo pubblico perché magari tirò del culo Vuoi farla un po' sputare Se voglio fare una diretta perché vuoi sputararla vado a dire Era mia amica, si è fatta mia ex e ha preso per il culo altra gente Punto Non vado a dire tutti i suoi cazzi Io non sono fatta così Poi non lo so, magari ci sono cose che non so e non posso parlare Però questa qua è la mia idea, punto Cioè non voglio dar contro a nessuno Però Anche perché so Cioè C'è troppo odio, fidatevi È pesante Per quello, perché se fosse solo che sia fatta 7 persone dell'house Secondo me non ci sarebbe manco da parlarne Vabbè, comunque è sbagliato Però io penso che abbia sbagliato anche Lady Giorgia A sputtanarla per tutti i cazzi suoi Non per quello che ha fatto a lei Per tutti i cazzi suoi È diverso